Si è chiusa la prima fase della Coppa Italia di eccellenza, decise le otto squadre che si giocheranno il 9 ottobre, i quarti di finale, con la formula della gara secca. L'Unione Fincantieri-Monfalcone vince di misurato il mezzo e domina di fatto il girone. Ancora in gol, Luqueo. Il Tamai va sotto a Casarsa ma poi ribalta il risultato e si qualifica come prima. Gran gol di Bortolin e rete decisiva di Carniello. La San Vitesse supera la Juventina con Venaruzzo e Capitan Rinaldi. Avanzano come prime anche l'Azzurra Premariacco e il San Luigi. Come migliori secondi il fiume Veneto-Bannia e il Kras. Kras che batte di misura la pro-Gorizia, decisivo sul finale il colpo di testa di Rajcevic. Gorizia che esce con 0 punti e 0 gol fatti, prima grande delusione di inizio stagione.